Emergenza Covid è la nostra storia, un libro che racconta questi mesi difficili anche attraverso delle immagini voluto dal centro ortopedico di Quadrante. Perché, dottor Carducci? Ma perché ci siamo trovati nel giro di pochi giorni a dover trasformare un piccolo ospedale di provincia, come può essere il nostro, anche se con una vocazione prevalentemente di tipo chirurgico, in un Covid hospital. Quindi qualcosa completamente diverso. È successo in pochi giorni, i nostri 80 letti, che poi sono diventati di più, sono stati trasformati in letti destinati a pazienti Covid che arrivavano da tutto il Piemonte. Questo abbiamo fatto grazie alla grande disponibilità e professionalità di tutto il personale, grazie all'aiuto che abbiamo avuto da Omegna, Omegna con i suoi cittadini che ci sono stati vicini in qualsiasi momento. C'è un'immagine che per lei rimane un po' il simbolo di questi mesi? Un'immagine che abbiamo avuto è che noi consumavamo in un mese quello che con il Covid abbiamo consumato in due o tre giorni, come materiali di consumo, guanti, camici, ossigeno. E quello che mi ricordo è una notte, io ho chiesto aiuto al socio privato, che è il generale Ramsey Santé, che ci ha messo a disposizione del materiale. In una notte un camion che è partito dal nord della Francia, raccogliendo nei vari ospedali francesi il materiale, è arrivato verso le 3 o le 4 del mattino portandoci un camion di merce, compreso farmaci, che in quel momento stavamo consumando in un modo smisurato e non si potremmo più trovare sul mercato. Quindi quella notte che ho passato lì, in un momento dove al mattino non sapevo come distribuire maschere e camici, vedere arrivare questo camion con dentro un purpurì di materiale che arrivava da decine di ospedali francesi che non ancora vivevano il Covid, è stato un momento che certamente non me lo dimenticavo mai nella vita. Il libro è curato da Angela Masiello, come ci ha lavorato? Quando il dottor Carducci mi ha chiamata per parlarmi di questo progetto e per chiedermi di realizzarlo ho accettato perché l'ho sentito mio, non solo perché l'emergenza Covid l'ho vissuta in prima persona, ma anche perché a dieci anni esatti dalla scomparsa di mia sorella Maria Teresa, una stimata giornalista che è conosciuta sul territorio, mi si chiedeva di prendere la penna in mano e di scrivere. Ecco, credo che nel farlo ho provato la forte sensazione che lei mi fosse accanto e che in qualche modo questa penna la guidasse. Questo libro consegna al futuro una testimonianza importante di cosa è stata questa emergenza per il nostro ospedale, ma soprattutto racchiude un valore ancora più importante che è quello che la pandemia ha risvegliato in ciascuno, un senso comune di umana appartenenza che non può essere dimenticato, ma che soprattutto racchiude un grande insegnamento che qualunque cosa accada nella vita non si resta inermi ad aspettare che passi la tempesta, ma imparare a camminare insieme sotto la pioggia.